A Calvi di Cattolica e Giallorossi arrivano da due pesanti sconfitte, il Lentigione dal sesto posto in classifica e dal pareggio pirotecnico a domicilio con la sorpresa Pro Livorno. Lillia alla ricerca di punti salvezze, Lentigione per regalarsi un Natale da protagonista, arbitra la gara il signor Gilberto Gregoris della sezione di Pescara coadjuvato da Piomboni di Città di Castello e Cardinali di Perugia. La partita entra subito nel vivo già dalle prime battute quando i Giallorossi si spingono in avanti con questa conclusione di Rizzitelli su quale Cheli fa buona guardia rifugiandosi in corner. Alla prima vera offensiva il Lentigione passa, dall'angolo di Scalini arriva il colpo di testa vincente a cura di Zagnoni che batte Piai, sembra di rivivere l'incubo vissuto una settimana prima col Ghivizzano. La replica della Marignanese Cattolica non tarda ad arrivare, ma Zanni schiaccia troppo la conclusione. Dall'altra parte Lentigione quando attacca fa male, Caprioni mette al centro, Piccinini si divora un gol fatto, ma l'azione viene replicata poco dopo. Caprioni ruba palla, serve Barranca che manda in porta Piccinini. L'attaccante tutto solo calcia incredibilmente sul palo, alla destra di Piai. Scalini, ancora lui, chi se no recupera palla al centro campo. La divora l'avversario, serve la sfera Barranca che tenta un tiro a giro che si perde a lato. In chiusura di tempo si fa male Go. L'attaccante prova a rimanere in campo, poi costretto a dare forfè. Al suo posto entra su. Intanto Docente, lanciato a rete, si lamenta per un fallo da dietro di Zagnoni. L'arbitro lascia proseguire, l'azione prosegue e Zanni stoppa la sfera e centra l'incorso dei pali. Sulla ribattuta Docente di testa va in gol, ma commette una carica su Cheli. Gol dunque annullato. Primo piano per l'ex FI a Riccione. Partita aperta, scambio tra Barranca e Caprioni con tiro di quest'ultimo bloccato da Piai. Altro errore a centro campo per i padroni di casa. Barranca ruba palla, appoggia per Piccinini che a sua volta manda in porta Caprioni. Altro palo clamoroso per la formazione. Ospite. Squadre a riposo sullo 0-1. Nella ripresa la marignanese cattolica cerca la via del gol, ma la conclusione di Manuzzi è fuori misura. Mentre fa terribilmente male, quando al primo acuto della ripresa il lentigione trova il raddoppio. Martino in venta. C'è una voragine di fronte a Barranca che, lanciato in profondità, beffa un incerto Piai in uscita per i 2-0 ospite. Abbracci meritati per il numero 11 sicuramente tra i protagonisti di questo match. La risposta della marignanese cattolica è affidata a S. L'attaccante in venta per Izzitelli, conclusione dell'ex Romagna centro che si spegne alta. L'asse Barranca-Caprioni fa male alla difesa di casa, ma Piai questa volta si salva come può mantenendo a galla i suoi. La marignanese cattolica rimane in partita. Kelly si distende su questo tentativo dalla distanza. Poco dopo è costretto a ripetersi quando su questo traversone docente va a terrenare di rigore. L'azione prosegue con questo tiro di gaiola bloccato dall'estremo ospite, che è costretto a metterci nuovamente una pezza sulla bordata di Izzitelli che lo chiama rifugiarsi in corner. Dalla bandierina nasce Gode la speranza. Pallone scaraventato dalle parti di Nodari, altro pallone gettato nella mischia, alla fine raccolto da Merlonghi e messo in mezzo per la testa Izzitelli. Kelly esegue il miracolo, ma sul tapin di So non può davvero nulla. 1-2. Partita riaperta. Lo stesso So spizzica questo pallone per la corrente docente. In ara c'è forse un tocco di mano di Zagnoni. L'arbitro lascia proseguire. Forcing offensivo che prosegue. Punizione di Merlonghi. Stacco di So. Pallone a lato. Ma all'ultimo respiro arriva il pareggio dei giallorossi. Traversore al centro. So buca involontariamente il pallone che diviene un invito per il neoentrato Baic. Tiro a giro e gol del definitivo 2-2 che provoca tutta la gioia meritata della panchina giallorossa. Un calcio alla sfortuna. Forse un calcio anche qualche rigore non sanzionato nel corso di questo avvio di stagione, ma soprattutto un abbraccio di squadra che merita gli applausi finale del pubblico amico. Con tanto di ringraziamento. Buone feste e arrivederci al 6 gennaio.